Una piattaforma digitale intelligente predisposta per raccogliere i dati e le immagini provenienti dal territorio. L'obiettivo del progetto Cagliari Smart City è quello di rendere il capoluogo Sard una città più green, smart e sostenibile attraverso l'innovazione tecnologica. Devo dire che è stato un grande lavoro fatto dal servizio, fatto dai partner tecnologici. Avevamo tempi molto ristretti, ricordo sempre che le risorse per questi progetti sono arrivate tecnicamente a bilancio e le abbiamo iscritte a maggio del 2021. Entro il dicembre del 2022 devono essere tutte appaltate e sono state tutte appaltate. Gran parte di questi progetti sono iniziati ogni primo mese del 2022, a metà del 2022 alcuni sono in fase di conclusione come questo dove stiamo chiudendo con la sistemazione delle ultime telecamere e degli ultimi sensori e quindi ci fa piacere. Sicuramente si accusa la pubblica amministrazione di estrema lentezza e con noi nel giro di 18 mesi, di due anni, siamo riusciti a dare ai nostri cittadini i progetti chiavi in mano. I dati confluiranno in una control room allestita nella sede del comune che consentirà di utilizzare le informazioni a supporto della strategia di interventi sulla città per una migliore e più efficiente gestione dei servizi. Una serie di dati che vengono dai sensori vengono tra loro messi in correlazione e questo consente di prendere delle decisioni, sia in tempo reale sia a livello preditivo. Se andiamo a analizzare le temperature che si elevano passando dall'ambito rurale alla città siamo in grado di dire che dovremo fare degli interventi sul colore dei tetti, sulle strade, sulla permeabilità del terreno. Mentre invece i servizi in real time possono essere quelli legati al fatto che sono in grado di capire se in certe zone c'è molto affollamento, posso evitare di passare in quella zona o posso essere avvisato anche del fatto che ci sono pericoli legati a un incremento della CO2 o legati a un'eccessiva piovosità e quindi a livello preditivo poi essere accorti nel mettere le paratie in zone particolari e significative di Cagliari dove il fenomeno delle ruioni è costante e quindi è un sistema di supporto alle decisioni dell'amministrazione.